è stato l'anno sì ci siamo confermati c'era un riposto come obiettivo iniziale di confermarci tra le grandi della lega ci siamo e ci siamo di diritto avendo fatto un ottimo percorso avendo incontrato una squadra che andata più forte di noi a cui sportivamente battiamo le mani incontrando altre squadre fortissime che si sono poi posizionate vicino a noi dietro a noi anche anzi ancora è tutto in gioco perché se non so quali sono stati gli altri risultati sugli altri campi ma credo questa sera credo che c'era cj che cosa dello scapicollo può determinare qualcosa anche perché sono due squadre ci sono vicino e sono sono o erano almeno fino diciamo a pochi minuti fa in lotta con noi per la seconda piazza che è una piazza importante una piazza di prestigio questa sera poi se andiamo nello specifico non sono molto contento della prestazione non so poi cosa quello poi lo vedrà il mister su quando non mi è piaciuto perché abbiamo incontrato sì una squadra molto forte la squadra preparata una squadra che poi se la lasci giocare ti mette in difficoltà e ti crea dei dei seri problemi sono andati in vantaggio ci hanno ripreso ci hanno fatto non giocare per il bacio immobiliare scusate è una grande squadra fatta una squadra stabilmente sta nella serie a da anni a cui faccio i complimenti faccio il fatto a matteo per l'impegno e la passione che mette in questo con per me conta tanto conta tanto lo vediamo lo vediamo nel quasi tutte le squadre che sono lì su diciamo quelle che poi le cinque diciamo che adesso andranno a giocarsi il campionato sono tutte squadre con una rosa lunghissima con calciatori di qualità con abbondanza e soluzioni in tutti i ruoli se poi entrano star mister poi fare scelte migliori sfruttare al meglio la rosa che avrà a disposizione per le prossime gare noi abbiamo comunque nulla è finita ancora perché poi abbiamo un'altra partita con la prossima contro il nes in cui noi ci andremo a giocare qualcosa quello è certo perché poi non siamo matematicamente secondi quindi dobbiamo giocare e dobbiamo onorare la gara così come ha fatto il bacio immobiliare questa sera perfetto grazie a presenza 3